papà ma come siamo nati noi? amore di papà, papà e mamma si sono conosciuti, si sono fidanzati, poi ci siamo sposati e siete nati voi, sia te che tua sorella Henry ah e da dove siamo usciti? amore da dove sono usciti? la cicogna, mi ha portato la cicogna amore dai ma quale cicogna? sono abbastanza grandi, diavidità dai va bene ve lo dico tanto ormai siete abbastanza grandi allora vedete come negli animali avviene la riproduzione avviene anche negli esseri umani quindi tra uomo e donna quindi voi due siete usciti dalla patatina di mamma ah quindi siamo due pesciate